Salve a tutti ragazzi bentornati nel mio canale o benvenuti se siete nuovi di qui io sono Niki Ripi ed oggi partiremo subito con un nuovo video tutorial quest'oggi andremo a parlare di UbiBanca probabilmente se anche voi siete utenti di UbiBanca vi sarà arrivata questa mail che vi comunica che dal 22 febbraio la vostra filiale passerà da UbiBanca a BiperBanca quindi ciò cosa ne consegue? che avremo un nuovo IBAN, un nuovo conto corrente e dovremo attivare delle nuove credenziali per entrare in BiperBanca quindi fare uno switch da Ubi a Biper per fare questa cosa vi dico che non è difficilissimo però so quasi per certo che molti di voi saranno spaventati all'idea di dover fare questa cosa perché pensano oddio che casino che sarà, mamma mia vi dico state calmi ora lo farò insieme a voi perché ho aspettato a fare questo switch anche perché il 22 febbraio come già pensavo il sito di Biper era intasatissimo e non si riusciva a fare questo passaggio da Ubi a Biper e quindi ho atteso due o tre giorni per poterlo fare e lo farò insieme a voi di modo che per chi teme di non saperlo fare lo saprà fare quindi premetto che sarà un video molto lento e calmo dove andrò a spiegarvi tutto nei dettagli e andremo a vedere passo passo quello che bisogna fare ho occasionalmente anche attivato lo streaming del mio cellulare sul desktop spero funzioni perché è la prima volta che l'ho fatto ovviamente oscurrerò i dati sensibili e direi che possiamo partire con il tutorial ci tenevo a fare questo preambolo iniziale perché magari se vedete che il video è abbastanza lungo capite il motivo partiamo subito ok ragazzi per prima cosa io direi che andiamo subito a scaricarci l'app di Biper Banca perché faccio questo? perché ce lo ritroveremo per dopo essenzialmente non c'è altro motivo è soltanto per anticipare il tutto per farci trovare già preparati e oltre all'app di Biper Banca vi consiglio anche di prendere un foglietto per scrivervi i vari codici che vi arriveranno quindi vado ad installare la mia applicazione ci metterà un pochino di tempo ma nel frattempo che viene installata noi andiamo a cercare su Google Biper e una volta aperto il risultato che ci dà Google clicchiamo qui su Ubi Banca che è il link relativo per fare la migrazione degli ex clienti Ubi Banca bene quindi andiamo a cliccare su accedi ora ci reindirizzerà nel sito dove fare il login bene bene ragazzi bene non mi ricordo le credenziali per entrare ottimo ottimo il codice utente mi sembra giusto quindi provo a fare password dimenticata quindi è anche una situazione tipo che potreste avere voi quindi mi sono dimenticato la password che cosa possiamo fare? vediamo un po' secondo me ci dice che cavoli tuoi eppure ce l'ho segnata su un file di test insomma dovrebbe essere quella ma vabbè proviamo a fare il reset della password ammesso che il mio codice cliente sia giusto mi sembra giusto non sono un robot ok abbiamo ricevuto un codice andiamo ad inserire bene quindi fondamentalmente anche se non vi ricordate le credenziali non importa perché non riuscite a sbloccare subito questa cosa complete date di data di carta per concludere il procedimento di recupero password seleziona la carta di debito associata al tuo internet banking ok inserisci le ultime quattro cifre della carta selezionata si allora non me le ricordo perché non ho la carta sotto mano ma so come fare e vai continua ben fatto gli abbiamo inviato la nuova password sul numero di cellulare la mia password di migrazione ora abbiamo ricevuto un sms per andare avanti sulla verifica del numero di cellulare lo inseriamo bene a questo punto aspettiamo ok ci dice di verificare se i dati che noi gli abbiamo lasciato in precedenza su ubi banca siano corretti e se sono corretti possiamo andare avanti i miei dati sono corretti quindi vado avanti poi ci dice anche di verificare se i prodotti della nuova utenza sono quelli che avevamo richiesto ok continuiamo ora ci è arrivato un email per convalidare il nostro indirizzo di posta elettronica quindi andiamo un attimo a verificare se è arrivata e dobbiamo immettere il codice che abbiamo ricevuto per email quindi attenzione hotmail la mette nello spam bene a questo punto ci arriva un ulteriore sms che riguarda il codice utente quindi noi con questo codice utente potremmo entrare nel nuovo internet banking di piper banca è comunque molto lento il sito ancora sicuramente molti utenti stanno facendo la transizione da ubi a piper è comprensibile sono anche le 22 di sera forse orario di punta non saprei bene nicola siamo a buon punto inserisci ora le nuove credenziali di piper banca ti abbiamo inviato tramite un sms il codice utente esattamente eccolo qui il codice utente lo andiamo ad inserire e dovrei aver ricevuto via email anche una password temporanea e la inseriamo una volta inserita la password temporanea ci arriva un altro sms che bisogna andare ad inserire per validare il numero di cellulare quindi lo inseriamo bene a questo punto ragazzi credo che siamo quasi giunti alla fine del nostro percorso a questo punto bisogna creare una nuova password che dovrà essere soltanto numerica e qui già secondo me potevano farla un po' meglio perché solo numerica non è molto forte comunque andiamola a creare ok creata qui potete scegliere se impostare un alias ovvero invece che il codice utente un nome tipo non so niciripi a posto del codice utente ma io non lo voglio fare anche perché poi lo voglio utilizzare con l'impronta e quindi va bene lo stesso bene a questo punto ci dice che abbiamo fatto ci invita a scaricare la nostra busta password che servirà eventualmente per poter riaccedere al nostro conto qualora fosse bloccato o ci dimentichiamo la password quindi scarichiamo questo file bene l'abbiamo scaricato perfetto poi lo stamperete e ora cliccate concludi a questo punto ragazzi siamo arrivati quasi al termine del nostro video tutorial ma già vi anticipo che bisogna andare nell'app Beeper e abilitare lo smart pin e ora andiamo a vedere come si fa ma ora ce lo dovrebbe spiegare anche lui bene ragazzi come infatti vi stavo dicendo ci dice che l'ultimo passo da fare è quello di scaricare l'applicazione smart mobile banking e creare subito il nostro smart pin quindi io vado su Beeper clicco continua e a questo punto iniziamo la nostra avventura con Beeper qui c'è un breve tutorial introduttivo sulle varie funzioni di Beeper tra cui una cosa simpatica potete anche fare delle ricariche Amazon e avrete il 2% in più sulla vostra ricarica non male bene andiamo avanti vai all'app ok perfetto ragazzi a questo punto bisogna inserire il codice utente o alias che ovviamente già mi sono scordato entriamo ci chiede se vogliamo consentire alla condivisione dei file multimediali eccetera tutte cose di Android 10 ma che bisogna consentire per forza bene a questo punto ci chiede di attivare lo smart pin noi lo creiamo per creare lo smart pin ci invia un codice sms al numero certificato che abbiamo fatto prima lo andiamo ad immettere il tuo codice è corretto e andiamo avanti per creare lo smart pin che dovrà essere di 5 cifre ok lo vado ad immettere ok continuiamo e a questo punto ragazzi siamo quasi ufficialmente passati a Beeper banca anzi già lo eravamo abbiamo soltanto finito di creare lo smart pin e aver scaricato l'applicazione ci arriva un altro sms che ci dice che ha visto che abbiamo associato il tuo servizio di internet banking al tuo telefono continua ok se lo desideri puoi associare smart pin alla tua impronta digitale certo perché non ho proprio voglia di rimettere il pin poi tanto bene che abbiamo questo cavolo di impronta usiamola no stiamo verificando un po' di lentezza sulla rete e ce ne siamo accorti comunque ragazzi diciamo che il video tutorial termina qui è stato molto lungo nell'editing cercherò di tagliare velocizzare accorciare qualcosina però fondamentalmente ecco la nostra transazione da qui Ubi a Beeper banca è avvenuta con successo ci abbiamo messo circa 20 minuti a farla ma se seguirete prima il tutorial e poi effettuerete tutti i passaggi vedrete che in 5 minuti riuscite a farla senza problemi io come al solito vi ringrazio per la visualizzazione se ci sono domande e dubbi postate pure un commento qua sotto nel video io vi risponderò nel più breve tempo possibile spero che il video vi sia stato d'aiuto se ti è piaciuto ovviamente metti un bel like iscriviti al canale attiva la campanellina per restare sempre aggiornato sulle novità che posto di volta in volta se ti va condividi anche il video un saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao